San Marco in occasione del Made Expo 2017 presenta Parametric Terracotta, un innovativo sistema di rivestimento in laterizio che è nato dalla collaborazione tra un laboratorio di, come si suole definire, manifattura digitale, PopLab, e i nostri laboratori di ricerca e innovazione. Per dar vita al concept di un rivestimento in laterizio che, indifferentemente dai piani inclinati, obliqui e verticali, riveste l'involucro e la moderna architettura. San Marco dimostra in questo modo vicinanza ai linguaggi architettonici contemporanei, vicinanza ai gusti attuali e soprattutto fa entrare in laterizio nella contemporaneità. Sono tre famiglie di piegature vicine, come dicevo, ai gusti contemporanei che fanno vibrare la facciata, che aumentano i vantaggi e i requisiti dal punto di vista energetico prestazionale sia in estate che in inverno.